Nel corso dei servizi di contrasto alla criminalità nel Rione Sanità a Napoli, i carabinieri della Compagnia Stella hanno fatto irruzione in un palazzo di Via dei Cristallini, interrompendo una riunione a luna di notte tra il capo di uno degli storici clan del Rione e altre due persone, una delle quali sarà trovata in possesso di una pistola semiautomatica. L'uomo armato aveva una calibro 9 che portava carica nella cintola dei pantaloni con 5 cartucce ed è stato arrestato dopo un inutile tentativo di fuga. Si chiama Antonio Attrattiva, 27 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e ritenuto appartenente al clan camorristico dei Savarese, e gemone nel Rione Sanità per il controllo degli affari illegali. Nel fuggi-fuggi dopo l'irruzione è stato individuato e riconosciuto il capo clan, 63 anni, attualmente libero, vigilato dopo una condanna per 416 bis, che poi è stato trovato in casa, al piano superiore. Mentre continuano le indagini per accertare se l'arma è stata usata per fatti di sangue o intimidazione e per la ricerca del terzo uomo in fuga, l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Poggio Reale. Grazie a tutti.